24 anni e questo il tempo che è passato dall'ultimo Siracusa-Catania di campionato. Il derby della diciottesima giornata è più di una semplice partita di cartello. La gara della vita è, come ribadito dal promo del Siracusa, un'occasione per scrivere la storia, perché quella del Desimone metterà in palio punti pesanti ed entrambe le contendenti sono chiamate a mostrare il proprio valore. Gli Aretusei vengono dal pareggio di Pagani, ma hanno fatto più volte del Desimone il proprio fortino. Gli uomini di Sottila hanno centrato tre vittorie nelle ultime tre in casa e vantano un ruolino di marcia negli ultimi dieci turni da vera protagonista. Tornerà dal primo minuto Catania e verranno confermati Valente e Baiocco in mediana. Corre a grandi falcate anche il Catania di Pino Rigoli. I rossazzurri vengono da tre vittorie consecutive e da una prova più che convincente in casa col Monopoli. Sperimentato un gioco a sprazio entusiasmante e presa a consapevolezza della propria forza, Pino Rigoli è chiamato alla prova di maturità. I rossazzurri saranno impegnati nel pomeriggio a Torre del Grifo per la rifinitura e limeranno i dettagli per la trasferta. Intanto, l'organico risponde presente. Viaggianti nuovamente ruolabile, scoppa possibile dall'inizio e gli attaccanti, tutti in grande spolvero, che si giocano una maglia da titolare e un'opportunità per confermarsi. Barisic la scommessa, Paolucci la certezza e Anastasi quella sorpresa che tanto ha stupito ma che ancora non ha recuperato al 100% dalla botta di Cosenza. Vincere in terra a Retusea vorrebbe dire calare il poker di successi e dare l'ennesimo forte segnale ad un campionato equilibrato che potrebbe vedere nel Catania un nuovo assoluto protagonista.